Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti quanti, ciao, mi chiamo Eric Pistaport, saluta, ciao, se avete visto i miei video di ieri, mi raccomando lasciate gli like e commentate, ecco, stiamo andando a fare una piccola passeggiatina nei pressi della Vallliona, infatti qua siamo già dentro in Vallliona, allora il nostro paese è là sotto e qua c'è una locanda che si chiama Cabruzzo, scusate, c'è una macchina, devo mettere un attimo in pausa, ecco scusate ma c'è la macchina doveva passare e allora ho dovuto stoppare la registrazione, comunque stiamo facendo una bella camminata, siamo appena partiti dal nostro paese e siamo veramente a metà carichi perché sarà quasi la seconda volta che veniamo io l'autopista, a parte che per me è quasi la quinta volta che siamo venuti qua perché scusate sto facendo una foto e non riesco mica a fare, ecco, comunque ragazzi vi lascio alle foto e noi ci vediamo dopo, quando siamo arrivati nella destinazione. Grazie 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 tipo un toast e con il prosciutto dentro che sembra tipo da porfetta e invece io mi mangio il panino col tonno ok ragazzi noi ci vediamo dopo anche poi ci vuole il pranzo da solo grazie 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 grazie